pensavo che le sterili osservazioni di alcuni consiglieri comunali in carica in relazione a non meglio precisati profili di incompatibilità della mia persona con la carica di assessore del comune di agropoli fossero scivolate nel contenitore dell'irrilevanza giuridica e fattuale a rispondere attraverso una nota stampa alla consigliera gisella botticchio e l'assessore rosa lampasona tuttavia occorre fare qualche precisazione e puntualizzazione la delibera di giunta municipale numero 285 barra 18 segnatamente del mese di ottobre 2018 è una chiara ed evidente manifestazione di volontà dell'organo collegiale deputato la giunta di difendere le ragioni dell'esigenza della comunità locale in ordine al proposto piano ospedaliero regionale di ridisegnare tra l'altro la rete di emergenza cardiologica in danno dell'ospedale di Vallo della Lucania e conseguentemente al comprensorio territoriale di riferimento in favore di quello di Eboli sul punto giova evidenziare che lungi da una logica di contrapposizione campanilistica con il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania l'atto deliberativo assumeva unicamente valore condiviso dai componenti dell'organo esecutivo comunale di salvaguardare importanti segmenti di assistenza territoriale segnatamente quella dell'emergenza cardiologica che se non idoneamente contrastato avrebbe determinato un ulteriore impoverimento del nostro territorio in relazione ai servizi essenziali di assistenza in consiglio comunale successivamente su post pubblicati su siti social nonché in alcune trasmissioni televisive locali l'argomento sarebbe stato riproposto senza la corretta dimensione ed analisi dell'atto amministrativo in parola per il quale sia dagli organi di stampa sia dalle emittenti televisive nonché dagli stessi consiglieri comunali che hanno rilasciato dichiarazioni discordanti dalla realtà effettuale e giuridica una pronta e sollecita smentita. In consiglio comunale successivamente su post pubblicati su siti social nonché in alcune trasmissioni televisive e locali l'argomento sarebbe stato riproposto senza la corretta dimensione ed analisi dell'atto amministrativo in parola per il quale sia dagli organi di stampa sia dalle emittenti televisive nonché dagli stessi consiglieri comunali che hanno rilasciato dichiarazioni discordanti dalla realtà effettuale e giuridica una pronta e sollecita smentita. Non sussiste incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di un ASL e la carica di amministratore locale. Tale incompatibilità è riferibile unicamente agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario sul punto si confronti l'articolo 14 del degreto legislativo 39 2013 nonché l'autorevole arresto dei giudici amministrativi del Consiglio di Stato terza sezione 12 novembre 2014. Spero di aver contribuito a fare chiarezza sulla questione scrive Rosa Lampasona evidenziando che l'impegno politico dell'amministrazione comunale di Agropoli in relazione al potenziamento del nostro presidio ospedaliero resta prima di nell'interesse della comunità di Agropoli altresì evidenzia la Lampasona che ulteriori ingiustificati attacchi diffamatori alla mia persona anche in ordine a condizioni private di non rilevanza pubblica che non integrino il diritto di critica politica saranno perseguite nelle sedi competenti a tutela dell'immagine di stimata professionista e di esponente politico dell'attuale amministrazione comunale dell'attuale amministrazione comunale